Buongiorno! Oggi vediamo insieme come disporre le cornici sulle pareti. Prima opzione in modo simmetrico o meglio le cornici disposte in una forma regolare ben definita dove tutto è molto rigoroso e molto minimal. Seconda opzione mixata con base allineata. Abbiamo cornici di diverse dimensioni tutte posizionate però sulla stessa linea di partenza. Terza opzione random con focus centrale con gli elementi più grandi al centro e le cornici più piccole che ruotano intorno come dei piccoli satelliti. Ultima super cool su mensola quindi utilizziamo la mensola da quadro e inseriamo tante cornici anche sovrapposte di diverse grandezze, colori e dimensioni. Ecco quindi i diversi modi di poter inserire le vostre cornici sulle vostre pareti. In realtà non esiste una regola vera e propria, l'unica regola che vige è l'armonia. Ciao! 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 Ciao!